buongiorno ecco suona la spesa della settimana e oggi da orizzonti ho preso rocotopo ho preso questi qua che è arrivata che li vedo polaretti cream giustamente ha preso gusto cioccolato io amo il cioccolato e viene laura e 50 anche tantissimo cinque pezzi vabbè vediamo un attimino l'effetto che fa e ho ripreso le pappe quelle deliziose per giocato per la mia piccolina sui che sta in fase di recupero e ha corizzato due cosine a prendere perciò passiamo subito oltre euro spin ecco il mio scontrino 79 euro e 20 bene o male è quella la cifra che spendo spiegato d'estate perché con la frutta mi viene un po più caro allora quindi il reparto fresco presso adesso è uscita prima non ce l'avevo la margherina quella spalmabile 100 per cento vegetale vegana senza glutine delle volte mi trovo bene anche se voglio far una frittatina che vuoi tu e viene 89 centesimi oscar vai via dalla ho ripreso i miei fermenti attivi però stavolta li ho preso li ho presi senza aromi 1 euro e 90 ho ripreso le pesche noci che sono deliziose 1 euro e 99 sono veramente buonissime dolcissime tantissimo tempo non mangiavo delle pesche noci o pesche così buone a 32 centesimi uno ripresi i corletti per la colazione il solito toast american sandwich a 9 euro e 20 sono ripresa le gallette di riso con il soccolo al latte perché ultimamente ho un po voglia di dolce non mi piace mangiare anche queste comunque è basso calorico però ci posso fare colazione della mattina e vengono 99 centesimi attenzione poi tra l'altro ho preso questo cioccolato qua fondenta 70 per 100 amo essere biologico se faccio il mukbang in diretta e mancate le polaretti la mia vita li adoro mi piacciono tantissimo oggi ho preso un po' di formaggi non stavano né in offerta né niente però volevo una piccola riserva perché adesso devo stare la prima volta nel salato un peccetto di formaggio e basta la paura allora questa proposta 99 però era tantissimo che non lo prendevo una vita e ce l'ho proprio voglia di mangiarmelo questo qua questo qua è questo qua questo qua ne ha da un aspetto di 200 grammi 1,29 euro se le metterò nel panino a mio marito ma quello qua 2 euro e 25 sto volto che si fisse di puro suino niente di pollo niente di racchino faccio i panini a mio marito penso di una vetrina che mi ha assaggiato questi qua forse quelli più grandi ma questi mai 1 euro e 56 miei salviettine igienizzanti ho preso due bottiglie di ginger mio marito ne va matto che poi lo diluisce con l'acqua cioè dico vabbè giusto per avere un po' del sapore per cambiare gusto all'acqua 59 centesimi le noci per il mio bimbo piccolino più moso e ieri anche il mio bimbo grosso marito se ne ha mangiato solo lui la confezione ho preso i filetti di sgombro grillati perché ho particolarmente voglia di roba fresca perché inizio a sentirlo pure io stranamente il caldo e che sono fiziosi questa è la salatina dove motori 1,69 euro dovrebbero essere due pezzettoni mi gusta ho preso le melanzane dovrebbero essere 99 centesimi melanzane 99 centesimi sono un po' piccantini però sono buone la carne c'erano le offerte la carne c'erano proprio le mie gomme famose gomme ho ripreso la braciolina che è sempre per queste l'offerta speciale 1,54 euro ho ripreso le mie alucce di raffino io le cucino con un po' di vinello bianco rosmarino salvia se vengono morbidi 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 2,89 euro e stavolta follia un occhio della testa ho preso le costine che ci faccio un bel stughetto per la pasta mio marito che lui adora le costine è capace che una costina me la mangio pure io col stughetto di pomodoro le alici le alici le alici le alici le ho lette prima troverò mai filetti di acciuga 1,39 euro ho fatto il pieno di multivitaminico e ho preso l'aranciata sempre per mio marito così mi piace bello diluita con l'acqua e amen riesco a trovare eccola qua 29 centesimi proprio e che c'è qua dentro 12% di arancio concentrato multivitaminico questo è buonino proprio questo piace anche a me 85 centesimi questo piace molto anche a me quando è bello fresco è proprio fissetato deve venire un amico a fare l'acquisito e ho preso la patatina quella classica giusto per non presentarmi a mani vuote questa qui l'ho pagata non può essere eccole qua 0,79 centesimi mamma mia ho preso pure con le 3 vitamine A, C, E arancia mela pesca limone e ananas un litro buono eccolo 99 centesimi reintegratore sale minerale riesco a bello solo al surco d'arancia al limone no non è che mi faccia impassi veramente si vede un po' una forma di disgusto di noce però bisogna reintegrare pure di sali minerali e questo è quello che amo di più ho preso due cerchioli davano 99 centesimi al chilo 2,24 euro al chilo ma ho preso due per viziato qui pappagallino mio melograno ma ci faccio più di una settimana ho preso un altro tipo di succo questa è banana pera e mela ho ripreso la mia passata di pomodoro sempre a 65 centesimi e basta questa è tutta la mia fetuccia di oggi un po' più ricca di bevande che del resto però poi l'acqua in genere la va a prendere mio marito perché io non lo posso ancora caricare mi ammazzo lui va prestamente a prendere bibite acqua tutto ciò che pesa va a lui però stavolta ero rimasta senza e ho preso qualcosa pure io scusami questa è la mia solida spesa settimanale dell'europeen speriamo mi sia piaciuto il video vi abbia per l'europeen ce ne vediamo la prossima volta ciao